Allora, stendi la pasta, fai i dischetti, io ho preso una ciotola per fare i dischetti, prendi il dischetto, apri, tieni in mano così, prendi la pasta delle patate, ce la metti dentro, poi fai questo movimento, chiudi sotto e poi lo tiri prima da una parte così, poi dall'altra così, 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 prima da una parte, poi dall'altra, prima da una parte, poi dall'altra, poi ti scende anche un pezzo di robo, fa niente, eccolo qua. Grazie. 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 Grazie.